virtus è una delle serie di mulinelli di maggior prestigio nella gamma trabucco il suo nome in effetti è stato ben azzeccato perché è pieno di virtù virtù tecnologiche per le materie prime utilizzate e per i processi produttivi ma anche virtù pratiche che si apprezzano nella pesca concreta nell'attività di tutti i giorni la struttura di questi fantastici mulinelli è interamente metallica pensate che forse l'unico elemento non metallico è il pomello della manovella quindi manovella corpo coperchio rotore e bobina sono tutti strutturati in alluminio un materiale che permette di abbinare leggerezza e resistenza la rigidità del corpo nel punto più importante cioè dove opera la manovella è incrementato dalla presenza di due speciali piastre in acciaio che sono fissate con queste tre viti e quindi in questa posizione la manovella lavora in totale sicurezza gli ingranaggi sono assistiti da ben 10 cuscinetti a sfere di cui uno oversize a rulli che è quello che governa il sistema di antiritorno la bobina montata sui virtus è una vera meraviglia innanzitutto balzano all'occhio i fori esagonali praticati sulla gonnellina questi sono di alleggerimento ma anche dal punto di vista estetico hanno un impatto notevole inoltre nella gola della bobina vediamo una banda in gomma morbida che serve ad evitare che il pacchetto del filo trecciato eventualmente imbobinato possa slittare sotto lo sforzo di carichi molto importanti il bordo superiore della bobina è profilato a v per avere un margine molto sottile che riduce moltissimo l'attrito con il filo in uscita sulla bobina abbiamo addirittura due clip ferma filo che si una a 180 gradi rispetto all'altra che si rivelano molto utili nella pesca a feeder per pasturare su due diverse distanze su richiesta sono disponibili le bobine di ricambio a capacità superiore ciascun mullinello virtus è fornito con una fantastica custodia in neoprene che lo protegge nel trasporto e che permette di coprirlo anche quando è montato sulla canna con la lenza che esce da questo foro la serie comprende quattro misure 2000 e 2500 per le tecniche di pesca più leggere come la trotto in laghetto la trotto in torrente lo spinning ultraleggero area trout e street fishing la misura 4000 e 5000 che sono perfette per la pesca all'inglese per la bolognese a grande distanza e per il feeder fishing